Tante le iniziative in cantiere, volte alla promozione del Piceno, portata avanti dalla provincia di Ascoli, dalla Confindustria e dall'Associazione Operatori Turistici di Grotta Mare. Tra gli eventi in programma, la partecipazione a quattro fiere italiane che toccheranno le città di Ferrara, Padova, Modena e Bolzano, oltre a nove centri commerciali. A parlare della promozione del territorio, tra gli altri, il presidente della provincia Celani, il presidente dell'Aut Scartozzi e il presidente di Confindustria Bucciarelli, che ascoltiamo ai nostri microfoni. Il turismo è sempre di più al centro delle nostre attenzioni, stiamo facendo un buon lavoro, partecipiamo a tutte le manifestazioni per propagandare il nostro territorio. Adesso abbiamo utilizzato anche mezzi innovativi per propagandare le nostre strutture, come questa chiavetta di nuova concezione che ci permetterà di essere ancora più innovativi. L'importante innovazione tecnologica è stata così illustrata da Pier Giorgio Crincoli. Quest'anno abbiamo deciso di portare al BIT un prodotto innovativo, una chiavetta USB che avesse all'interno una micro memoria di SD che può funzionare sia all'interno del computer sia all'interno del cellulare e che quindi dà un prodotto sicuramente nuovo per quanto riguarda il catalogo di Confindustria Scolipiceno. Come potete vedere alle mie spalle, il catalogo può essere sfogliato sia all'interno del computer sia all'interno di un monitor touchscreen e permette quindi l'interattività più totale con il catalogo e quindi con le strutture associate a Confindustria Scolipiceno. Questa chiavetta è stata distribuita agli operatori internazionali che sono stati incontrati per quanto riguarda il workshop by Italy e anche quest'anno abbiamo riscontrato un notevole successo per quanto riguarda questa iniziativa.